Per fare un omaggio all'Africa, molti anni fa ero in Tanzania e ho incontrato il suonato con dei musicisti sudafricani che scappavano dall'apartheid ancora maledettamente presente. Le tecniche che mi hanno insegnato vorrei riportarle questa sera. Capisco anche che l'Eritrea ha una cultura musicale molto diversa ma spero comunque che vi sia gradito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.